Francesco Brighigna, coach della San Giustino Volley, regular season terminata a 64 punti, un'impresa, visti tanti infortuni, occorse la tua formazione, ora inizia il vero campionato. Ci si tuffa nei play-off con qualche ambizione in più? Diciamo che l'obiettivo stagionale che ci eravamo prefissati quest'estate con la società, anche quando abbiamo costruito questa squadra, praticamente da zero come sappiamo, era quello di fare un'entrata onorevole dentro i play-off. Credo che la seconda posizione abbia confermato che questo era un obiettivo alla nostra portata, per il quale abbiamo lavorato anche duramente, un po' come lavorano tutte quante le squadre. e quindi credo che senz'altro questo è motivo di soddisfazione. Aver raggiunto una seconda posizione è quanto mai una cosa che ci rende orgogliosi, perché comunque sono andate le cose, credo che in questo giorno di ritorno c'è stata un po' di sofferenza per tanti motivi che noi sappiamo e quindi non è stato semplice, onestamente, tenere una posizione così alta della classifica. Ora, dicevamo, inizia il vero campionato, perché iniziano i play-off, ci sarà da giocare con le più forti. Mi fai un bilancio su quelle che sono riuscite ad entrare tra le prime otto? È veramente il top del campionato di Serie C femminile? Sì, credo che la classifica non menta, assolutamente. Sono tutte le squadre di cui poi parlavamo anche qualche mese fa, a fari spenti quando ancora chiaramente non era iniziato il campionato. Senz'altro ci sono squadre che hanno avuto un migliore girone di ritorno, un girone d'andato un po' più difficile, ma molte volte le condizioni anche fisiche, infortuni, eccetera, influenzano pesantemente questa cosa, perché chiaramente non ci sono degli organici così lunghi. In questo momento la squadra che senz'altro è molto, molto in forma, è il Monteluce, che veniva da una strisciata di 16 vittorie consecutive, ecco, prima di perdere con noi sabato scorso. Quindi è una squadra che non ha raggiunto la testa, la vetta della classifica, credo principalmente perché ha avuto dei problemi fisici nella partizia del campionato. In testa si è confermato Castiglione, credo meritatamente, perché è una squadra che ha dimostrato di avere una notevole continuità e credo che il nostro secondo posto sia assolutamente meritato. C'è stato un momento in cui rischiavamo seriamente di perderlo per i problemi che abbiamo avuto, però onestamente è la posizione che ci siamo ampiamente meritati e quindi ce la siamo tenuti abbastanza stretta. Brevemente, non ti faccio fare pronostici perché so che tanto non li vuoi fare. La salute mentale e fisica della tua squadra, soprattutto gli infortuni delle lungodegenti, riusciremo a trovare qualche innesto, qualche possibilità per questa ragazza nei play-off? Ma vediamo, ci stiamo lavorando su questa cosa. Giorno dopo giorno ci sono le condizioni di alcune ragazze che stanno migliorando, quelle di Angelica Nuti che è fuori per un'infortunio importante alla Caviglia da metà febbraio. In questi giorni ha ripreso con l'attività di corsa, quindi vedremo se riusciremo a fare qualche cosa di più. È rientrata Greta Ottaviani da poco tempo, anche lei fuori per due mesi, due mesi e mezzo abbondanti. In questo momento siamo alle prese con un problema di schiena per noi polimanti che stiamo gestendo con un periodo di assoluto riposo. Speriamo di poterla reintegrare, siamo fiduciosi su quest'ultima in maniera particolare. Questo per quello che riguarda l'aspetto fisico. L'aspetto mentale direi che è più che buono. La squadra ha attraversato un periodo di difficoltà quando ha perso tre gare consecutive contro, fra l'altro, delle big del girone, quindi ci poteva assolutamente stare. Chiaramente perde tre gare consecutive per una squadra che veniva da molte vittorie e non è stato molto semplice. Però devo dire che c'è stata un'ottima reazione. In questo senso la squadra ha dimostrato da un mese a questa parte di saper far fronte anche alle difficoltà di carattere fisico, di saper giocare soffrendo, che è una cosa non semplice, e di saper fare risultato soffrendo. Quindi devo dire che sotto questo aspetto senz'altro abbiamo dimostrato, e le ragazze hanno dimostrato in particolare, di avere questa capacità di non mollare nemmeno un centimetro neanche quando ci sono certe condizioni che ti imporrebbero di farlo. Questa è una qualità molto importante. Ne parlavamo proprio l'altra sera in allenamento. ho chiesto alle ragazze di far mente locale su questa cosa, di far tesoro proprio di questa qualità. Grazie a tutti.